Una volta la sorella di San Domenico Savio, Raimonda, cadde in uno stagno. Domenico si tuffò subito nell'acqua pur non sapendo notare. Dove hai preso tanta forza, gli domandarono alcuni ammiratori del suo gesto. Non ero solo, rispose sereno al ragazzo. Io reggevo Raimonda, ma a sorreggere me c'era l'angelo custode. Così, dalla testimonianza sulla vita del santo.